Chi diavolo sono quei tizi? Non importa, so dove andare, usciamo di qui. Agh! Sì. 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 Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Che cosa devo fare? Oh, cazzo. Cosa? Voi... Ok, ora devi tirare. Ok. Ok, sei pronto? Uno, due, tre. Tira! Oddio. Raggiungi il cavallo. Non vedo nessuno. Andiamo. Joel, come va? Sto bene. Puoi occuparti della finestra. Già. Cristo. Avanti, muoviti! Ti vedo. Porta. Resta qui. Oh, cazzo. E' lì. Eram miei amici quelli che ha ucciso, Sponzo. Vieni fuori o vuoi risolverla con le cattive? Peccato. Peccato. Dobbiamo portarti fuori di qui. Sto bene. Non stai bene, Joel. Andiamo adesso. Muoviti. Qui non c'è nessuno. Veloce. Stai andando bene. Continua così. Cavolo. Qui, appoggiate a me. No. Puoi camminare? Sì. Allora cammina, cazzo! Avanti. Ecco l'uscita. Ma che fatto? Forza! Ehi! Ehi! Joel! Dietro di te. Cosa? È lì. La ragazzina è armata! Ehi! 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 Oh, merda! Piccola struzza! Ehi! Joel! Vieni! Alzati! Ehi! Il braccio attorno a me! Bene! Andiamo! Giuro che se ti tiro fuori di qui, ti faccio cantare per me! Aspetta qui! No! Apro la porta! Ecco, calma! Avanti! Ci siamo! Che cazzo! Forza! Prende il cavallo! Ok! Ehi! Ehi! Vi Katsoglie! È un salierte! Siamo al sicuro Joel Joel Ah merda Joel Dai Alzati Alzati Devi dirmi cosa fare Forza Devi alzarti Joel Non durerà a lungo Lo spaventeresti Ma dov'eri Ecco te qua Ciao 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 Sì. 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 Oh, Carlo. Sì. 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 Grazie. Grazie. Come vai a essere ancora vivo? Che posto è questo? Oh, grazie. Va tutto bene. Questo posto non è affatto in grande. Chi è là? Chi è là? Uscite! Ehi là. Vogliamo solo parlare. Se ti muovi, te ne infilo una dritta in mezzo agli occhi. Idem per il ragazzino. Che cosa volete? Mi chiamo David. E questo è il mio amico James. C'è un gruppo più grande, con donne e bambini. Tutti molto, molto affamati. Anch'io. Donne e bambini, tutti molto affamati. Beh... Potremmo fare... uno scambio per un po' di carne. Che vi serve? Armi? Munizioni? Vestiti? Medicine! Avete degli antibiotici? Ne abbiamo. All'accampamento. Se vuoi puoi seguirci. Non vi seguo da nessuna parte! Sì. Il ragazzino va a prenderli. Torna con ciò che mi serve. E il cervo è tutto vostro. Se arriva qualcun altro... Me ne infili una dritta in mezzo agli occhi. Per spiegace. Due boccette di penicilline e una siringa. Sbrigati. Vai, su. Quel fucile lo prendo io. Certo. Indietro. Eh, ci metterà un po'. Ti... spiace se ci ripariamo dal freddo. Porta anche quello. Ecco. Sai, non dovresti andare in giro da sola. Non amo la compagnia. Capisco. Come ti chiami? Per chi? Senti, so bene che non è facile... fidarsi di due sconosciuti. Chiunque sia il ferito, si vede che ci tieni. Sono certo che andrà tutto bene. Vedremo. Avevi un'altra pistola? Mi spiace. Ok, ora... potrai riavere il fucile. No! Hai la pistola! Spero tu sappia come usarlo. Ho fatto un po' di pratica.